Un accessorio per chi ha poca voglia di stirare? Oggi realizziamo insieme una tovaia da stiro facile e veloce. Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui miei tutorial di cucito e le mie storie di creativa. Ciao sono Elena, spesso mi capita di fare piccoli interventi di stiro o di stirare piccole cose e non ho voglia di preparare l'asse da stiro. In questo video realizziamo insieme una tovaglia per lo stiro. La potete trovare anche in vendita sul mio negozio Etsy al link in descrizione. Tagliare gli angoli arrotondati aiutandosi con una forma come un piatto. Unire le parti cucendo i bordi, tenendo il tessuto di cotone con il dritto sopra, in mezzo l'ovatta e sotto la fodera con il dritto all'esterno. Consiglio di usare il punto lungo per riembastire i bordi, dopo averli puntati con gli spilli. il chiave, passiamo aiutandosi sui miei. Tagliare gli angoli, tendre le lettere mangiare, provare i luci, mani Grazie a tutti. Cucire lo sbieco intorno ai bordi della tovaglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.